Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Quorum Utrend per Sky TG24 sulle intenzioni di voto. Fratelli Italia, primo partito al 28,9 guadagna lo 0,1, il PD al 20,3 perde lo 0,3, il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2 al 16,6, la Lega perde lo 0,9 ed è all'8,1, Azioni Italia Viva al 7,5, Forza Italia sale al 6,8, guadagna lo 0,6, Alleanza Verdi Sinistra al 3%, guadagna lo 0,3, più Europa al 2,1 guadagna lo 0,1, Italexit all'1,9 perde lo 0,3, Noi moderati guadagnano lo 0,9, cioè sono allo 0,9 e perdono lo 0,3, altri partiti al 3,9 guadagnano lo 0,3. Indecisi più astenuti sono il 41,6% meno 0,5. Grazie a tutti e arrivederci a presto.